ciao a tutti i video della glossy box di gennaio che è la mia ultima glossy perché mi sono disabonata mi sono stufata perché beh a parte dopo la glossy di dicembre in cui ho ricevuto i prodotti doppi mi sono parecchio alterata e poi perché più delle volte sono prodotti che non è che io usi moltissimo quindi iniziavo a essere stufa insomma inoltre in questi ultimi tre mesi non mi è arrivata la cartolina contenente con la descrizione del contenuto quindi non ho potuto neanche verificare la proporzione di quanto speso e del valore contenuto nella glossy certi prodotti non essendo descritti o essendo scusate essendo campioni non c'è scritto nulla sulla confezione e la cartolina mi faceva comodo per capire che cosa avevo tra le mani e in più in queste ultime due volte non ho ricevuto l'sms di avviso della consegna quindi diciamo che ero a casa magicamente nel momento in cui è arrivato il corriere e il contenuto 5 prodotti un campioncino della benefit per minimizzare i pori è un tubino di vediamo se riesco ad aprirlo 3 ml ecco e va bene poi doccia schiuma e io di questo l'ho già ricevuto però in altra profumazione doccia shampoo rivitalizzante al ginseng o forse l'ho anche già ricevuto è che l'ho finito per quello che non mi ricordo comunque doccia schiuma che per carità io ero una sostenetici di doccia schiuma perché comunque non sono una cosa che uso però due balli insomma basta 40 ml smalto d'alessandro taglia piena 18 mesi di durata dell'apertura sono prodotto in Gran Bretagna e sono 10 ml e avrei detto che faceva schifo invece come colore perché avevo paura non fosse coprente invece è molto coprente quindi un beige coprente lo rivaluto perché ho fatto lo swatch e non è malvagio poi shampoo secco io l'avevo già ricevuto della Batik mi pare Batista Batik c'è un'altra marca che ho visto essere reperibile d'acqua e sapone l'ho già usata non mi ero trovata male comunque un altro shampoo secco e questo è prodotto in Gran Bretagna anche questo diciamo che è un prodotto salva occasioni e dopo e qua mi tornerebbe utile la cartolina di Criola questo questo è un tester da espositore tester non in vendita e non so cosa sia non so cosa sia non so se sia un blush non so se sia un fondotinta non so se sia una cipria non lo so adesso non so se mi sia sfuggito se voi vedete qua che ci sia scritto cosa sia ve lo dite per piacere questo è il contenuto della mia glossy la mia ultima glossy io vi saluto e vi mando un abbraccio ciao